Come ogni martedì andiamo a vedere la situazione della criminalità nella nostra città grazie alla collaborazione con Mindcrime. Le immagini che andremo a vedere riassumono l'andamento dei reati nel corso dell'ultima settimana. Il primo grafico descrive complessivamente l'andamento dei crimini suddivisi per categorie di reato e si evince una netta prevalenza di crimini violenti e furti. Le altre fattispecie di reato sono distanziate invece in maniera relativamente significativa. Il secondo grafico mostra invece i giorni più colpiti dai diversi reatti e si vede che gli episodi criminosi si sono distribuiti con un andamento stabile tra martedì 28 giugno e venerdì 1 luglio. In relazione alle zone in cui si è concentrata la maggior parte dei reati invece si segnalano Duomo, Porta Venezia, Piazza Garibaldi e Stazione Centrale.